Si accende a Giulianova la polemica per la decisione da parte di Ferrovie dello Stato di tagliare le fermate di treni veloci nella stazione del Comune Costiero, una fermata che rappresenta un importante punto di snodo per tutta la provincia di Teramo. A denunciare questa situazione il presidente di Asso Turismo confese il centi Teramo Gianluca Grimi, che lancia un appello anche alla politica per la risoluzione del problema, che rappresenta un ulteriore danno all'indotto turistico e non solo. Sì, la questione dei trasporti è endemica in Abruzzo, in particolare in provincia di Teramo. Adesso abbiamo avuto anche questa notizia che Trenitalia ha soppresso alcune frecce sulla linea di Giulianova e questo è un problema di prospettiva per il turismo, per il commercio e per l'industria. Perché ricordiamoci che in realtà la stazione di Giulianova è la stazione della provincia di Teramo, non c'è un altro collegamento. I treni veloci fermavano fino a poco tempo fa solo a Giulianova. È impensabile escludere completamente una provincia e il collegamento con l'Aquila, perché da Giulianova c'è anche il collegamento con l'Aquila, dal traffico veloce, non è veramente pensabile. San Benedetto del Tronto ha oltre dieci coppie di freccia bianca, freccia argento e freccia rossa che si fermano e non nulla in provincia di Teramo. Per andare a prendere un altro freccia bianca bisogna andare a Pescara. Quello è completamente bypassato la provincia di Teramo. C'erano due coppie di treni più un freccia argento fino allo scorso anno. Adesso Trenitalia dalla sera alla mattina ha ridotto a un freccia bianca estivo questa situazione. Il problema è di prospettiva, perché si andrà sviluppando questo corridoio europeo-adriatico, su cui ci saranno moltissimi investimenti, e non essere presenti in questo settore significa non essere presenti nei tavoli, non incidere e sostanzialmente escludere a priori una provincia così importante come quella terramana. Non solo per il turismo, parliamo di industria, commercio, turismo e tutto l'indotto sociale. Sostanzialmente noi prendiamo di mira Trenitalia con cui bisogna interloquire, ma per interloquire con Trenitalia occorre un intervento della politica locale e della politica provinciale e regionale. Senza questo intervento sostanzialmente parleremo per nulla.